Il motore montato dalla serie 6 TTV ha un Deutz 6 cilindri da 6.100 cm³, alimentazione Common Rail da 1.600 bar e un livello di emissione Stage 5. La potenza erogata è di 192 CV per il 6.190 TTV e di 230 CV per il 6.230 TTV. Nei motori Deutz le pompe di alimentazione del gasolio sono lubrificate ad olio e non dal gasolio stesso. Questo riduce drasticamente le rotture e i problemi dati dal gasolio sporco. Il nuovo serbatoio gasolio ha una capienza di 420 litri ed ha un'autonomia molto elevata. Inoltre il fatto che sia costruito in un unico pezzo lo rende molto facile da riempire ma soprattutto veloce. Abbiamo due impianti di raffreddamento diversi per garantire le migliori performance a seconda del modello scelto. L'unità si apre senza bisogno di attrezzi ed è realizzata interamente in alluminio per dissipare meglio il calore. Il compressore dell'aria è montato direttamente sul motore. Questo migliora l'efficienza, riduce il rumore e la manutenzione. L'efficienza del motore è anche garantita dalla separazione della polvere in fase di aspirazione che avviene nel 7230 TTV attraverso una depressione creata dalla ventola Evisco.